Senza stipendi dal mese di aprile e condizioni di lavoro assai lontane da quelle ideali. E' la situazione in cui versano 8 dipendenti e 40 lavoratori del centro sportivo Lenaia di Di Pescara che incroceranno le braccia nella mattinata di venerdì. Una decisione presa dopo averle tentate tutte ha detto Guido Cupido della SLC CGL. Il gestore, la pretuziana, però vanta dei crediti dalla regione Abruzzo e solo dopo questo pagamento potrà liquidare i lavoratori. Chi gestisce attualmente le naie ha un debito a quanto pare abbastanza ingente nei confronti di chi forniva elettricità e gas. Tant'è vero che le naie di oggi funzionano con una metà circa dell'impianto non funziona per esempio la piscina olimpica eccetera perché c'è tutto quanto attaccato a un generatore. Questa è la situazione in cui loro definiscono, il centro-destra definisce spesso le naie del fiore all'occhiello ma basta andarci dentro e capire da quanto tempo non c'è più un investimento né sugli impianti né sulla struttura. Il prossimo 31 luglio scade il bando di gara europea per l'affidamento in concessione ventennale della gestione del centro sportivo. Non si può fare altro che rispettare la norma auspicando che la gara possa consentire l'individuazione di un operatore solido e in grado di compiere consistenti investimenti utili a garantire il rinnovamento della struttura. Così l'assessore regionale allo sport Mario Quaglieri. Il rischio, continua Blasioli, è quello di vedere la gara deserta e il centro natatorio di nuovo chiuso come accaduto anni fa. Chiediamo di verificare se le persone, i soggetti, le società che stanno attualmente visitando le naie in vista della scadenza del bando ventennale il bando scade il 31 luglio, il tempo per le domande ci sia un vero interesse da parte di questi soggetti o se invece questi soggetti stanno avanzando dei dubbi, delle criticità su questi bandi. Alle porte però potrebbe esserci una svolta. Infatti questa mattina il sindacato ha ricevuto notizia di possibile pagamento nelle prossime ore. Se questo dovesse accadere lo sciopero sarà revocato. E qui come per l'ematologia ogni volta per ottenere qualcosa bisogna muoversi. Questo è il dato di fatto. Ormai non esiste più il senso del dovere e la giusta retribuzione per chi lavora. bisogna sempre protestare per ottenere quello che è giusto.